Un'occasione quella di oggi anche per fare il punto sulle criticità che da sempre sono presenti al carcere di Castroni. Sì, va detto però che da alcuni anni il sovraffollamento è diminuito, salvo nell'alta sicurezza. Va detto altresì che da alcuni anni il regime aperto, che adesso è stato ribattezzato custodia aperta e custodia chiusa, ha attenuato di molto quelle che erano le problematiche all'interno delle sezioni detentive. I detenuti sono aperti in media sicurezza dalle 8.30 al mattino alle 17.30 di sera, salvo che non ci siano problemi di sicurezza perché nel qual caso vengono immediatamente chiusi e riaperti quando ci sono le condizioni di sicurezza per poter procedere in buona sostanza. Di questo se ne è giovato tutto l'ambiente e la popolazione detenuta perché prende meno rapporti, meno denunce, ci sono meno fatti critici e la stessa polizia penitenziaria perché adesso incentra la sua operatività sull'osservazione delle persone detenute soprattutto, piuttosto che sulla vigilanza statica che c'era fino a qualche anno fa. Per quanto riguarda invece i detenuti psichiatrici, le criticità rimangono? Come si potrebbero risolvere? Si dovrebbero risolvere attraverso una diversa modalità di gestione penitenziaria, nel senso che se sono psichiatrici perché hanno grossi problemi sotto l'aspetto psicofisico, in carcere non dovrebbero esservi perché il carcere è pur sempre un luogo di detenzione e di privazione della libertà e anche con tutti gli sforzi possibili e immaginari, logicamente un ambiente diverso da quello detentivo sarebbe migliore per la loro tutela. Il lavoro svolto da parte della polizia penitenziaria cosa oggi vuole sottolineare di più? La benegazione e l'impegno che loro estendono non solo sotto l'aspetto dell'ordine, della disciplina e della sicurezza ai fini proprio di assicurare anche esigenze di difesa sociale contro il crimine ma principalmente l'alporto collaborativo che loro offrono ai fini del recupero sociale e culturale dei detenuti.